Mi hai comprato un frigeri, cioè... Diametro 70 focale da 900, come tu m'ha detto te. Ah, non vedo l'era di farlo vedere a Patrick. Chi l'è, Patrick? Beh, Patrick è... Patrick è il mio ragazzo. Papà, che hai? Codesto Patrick è anche peggio di motorino. Ma dai! E dai, su, non essere banale, è il figlio di William, il nuovo trapezista. Papà, ti piacerà, vedrai. Sì. Sì. Dimmi cosa c'è giù dentro. È un... Un dollaro americano. Dimmi come si chiama. Dimmelo subito. Sì, stai, 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 non mi devi toccare. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Stop! Let us see. You would never learn to be the same again if I don't. Grazie a tutti. Grazie a tutti.